Io resto a casa ma le mie passioni no. Le biblioteche in questo periodo sono chiuse, però si può lo stesso richiedere libri, guardare dvd e consultare un'edicola virtuale chiedendo l'inserimento nella piattaforma digitale Mlol. Per l'attivazione basta inviare alla biblioteca una mail con il proprio numero di tessera, una mail di preferenza e possibilmente anche la vostra data di nascita in caso di omonimia. A questo punto la biblioteca attiva la vostra iscrizione su Mlol. Voi riceverete una mail e dovrete seguire le indicazioni del caso. Il passo successivo è andare su Google, digitare Mlol, selezionare, biblioteche bellunesi comparirà, lo username che è il vostro numero di tessera, e la password. A questo punto potete effettuare il login. Effettuato il login entrate nel sistema, entrate nella piattaforma Mlol, nel portale. Ecco i libri, gli ebook disponibili, l'edicola con diverse testate e i film. Gli audiolibri e Spotify per la musica. Così riusciremo a passare meglio il nostro tempo in casa usufruendo di un servizio che ci offre, come avete visto, la possibilità di guardare un film, di leggere un libro, di ascoltare musica.